Ciao Acquaponici e bentornati sul canale! Nel video di oggi vi racconteremo un giardino che unisce le coltivazioni in fuori suolo a coltivazioni più tradizionali che stiamo realizzando ad Avellino presso un istituto alberghiero, il Mario Rossidoria, che si trova proprio qui di fianco a noi. Infatti in questo spazio verrà realizzato appunto questo giardino molto particolare in cui il primo elemento che abbiamo installato è una parete di coltivazione in idroponica che sfrutta il nostro sistema di torri DVT che sarà il focus diciamo di questo video di oggi mentre nei prossimi video vi racconteremo gli altri elementi che andremo a realizzare. Infatti vedrete che installeremo in questo spazio degli orti in cassone, un tavolo acquaponico, delle sedute varie e inoltre alle mie spalle praticamente in fondo all'aria verrà realizzata naturalmente non da noi la nuova palestra, la nuova palestra dell'istituto e quindi questo sarà una sorta di giardino dedicato agli eventi ma anche per il semplice passaggio dei ragazzi che andranno a fare attività fisica. Come vi anticipavo la prima installazione di questo giardino è stata una parete in idroponica, questa che vedete qui alle mie spalle, con circa 800 minibraghe DVT. Sono dislocate su 100 torri, quindi una media di 8 minibraghe per torre, dico una media perché avendo creato un dislivello abbiamo all'inizio torri da 7 minibraghe e alla fine torri da 9 minibraghe. Queste minibraghe scaricano attraverso un tubo appunto del 90 in polipiopilene, questo grigio che scorre qui a terra, scaricano una cisterna interrata, una cisterna da interro appunto di circa 1300 litri di volume che è facilmente ispezionabile svitando appunto il suo coperchio. Andando ad aprire il coperchio della cisterna vediamo che abbiamo qui dove c'è questa retina bianca, diciamo questo filtro bianco, il ritorno dell'acqua dalle torri. L'acqua arriva in cisterna e qui abbiamo una pompa posizionata sul fondo, è una pompa sommersa, è quell'elemento arancione che si vede al centro e al fondo della cisterna, una pompa sommersa che prende l'acqua e la spinge tramite appunto un tubo, in questo caso un tubo del 32, di nuovo alle torri. Lungo il suo percorso forse avete notato che c'è una diramazione che servirà un po' a movimentare l'acqua e a mescolarla meglio in cisterna. Vi ricordo che in quell'acqua ci sarà tutti i fertilizzanti quindi sarebbe ottimale avere una buona mescolazione e quindi un'omogenea miscelazione della soluzione nutritiva. Dunque dalla pompa sempre attraverso questo tubo del 32 l'acqua sale curva attraverso il nostro filtro a rete, filtro che impedisce appunto l'occlusione di tutti gli elementi che ci sono a valle del filtro. Quali sono questi elementi che non vogliamo che si occludano? Sono i gocciolatori posizionati su queste due linee di ali gocciolanti. I gocciolatori ne vediamo uno per torre da 25 litri ora in questo caso con il loro tubicino capillare che porteranno l'acqua in cima ad ogni torre a una portata appunto di 25 litri ora. Allo stesso modo come avviene in questa prima torre avverrà in tutte le altre 99. Da qui fino alla fine della parete. Tutte le torri col sistema che ormai conoscete benissimo perché abbiamo raccontato più volte sul canale trattengono l'acqua necessaria della crescita della pianta e l'acqua in eccesso viene scaricata e convogliata nel tubo di scarico del 90 che vedevamo prima ovvero il tubo che riporta tramite una pendenza dell'1% in questo caso riporta dall'acqua alla cisterna di raccolta. Le torri sono vincolate a questa parete una parete di contenimento del terreno essendoci dei dislivelli in quest'area e una parete in cemento in cemento armato dove abbiamo vincolato le torri tramite semplicemente una barra che abbiamo impiantato nel muro che si collega a un collarino un collare quelli da grondaia mettiamola così del 90 che abbiaccia perfettamente la mini braga quindi le mini braga che stanno su sono sono solide e nella parte bassa c'è un'altra barra di supporto e quindi la torre si trova appoggiata su questa barra di supporto in basso è vincolato dal collare in alto e poi abbiamo lo scarico delle torri che è stato realizzato con un tubo in polipropilene del 40 che si innesta perfettamente nel 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 topo pieno della mini braga questo tubo del 40 poi è stato inserito all'interno della condotta da 90 mm tramite un morset in gomma che garantisce insomma un passaggio stagno dell'acqua diciamo sia dall'esterno verso l'interno che dall'interno verso l'esterno. Per quanto riguarda l'ingresso dell'acqua o meglio della soluzione nutritiva in ogni torre appunto abbiamo il tubicino capillare attaccato al gocciolatore del 25 in cima alla torre abbiamo posizionato questi tappi del 90 che si posizionano perfettamente intestata alla torre in cima questi tappi sono stati forati semplicemente andiamo a inserire il tubicino nel foro del tappo e poi mettiamo il tappo in posizione in questo modo il tubicino non si muove e tra l'altro possiamo anche direzionare un minimo il flusso se lo vogliamo avvicinare o allontanare ad esempio dalla prima pianta. Per quanto riguarda l'integro dell'acqua di questo impianto idroponico in questo caso l'abbiamo automatizzato in maniera abbastanza semplice come vedete c'è un galleggiante è quella palla blu che va a definire in un certo senso il livello dell'acqua in cisterna quando il livello si abbassa troppo la palla si abbasserà insieme al livello dell'acqua e questo permetterà l'apertura del rubinetto che porta l'acqua direttamente dal pozzo quando invece la cisterna è piena la palla è in alto e lei in automatico diciamo tramite questa barra metallica andrà a chiudere il rubinetto sostanzialmente e quindi si andrà a interrompere il reintegro dell'acqua all'interno della cisterna. Inoltre in questa cisterna vedrete nei prossimi video che installeremo delle sonde per la misurazione di pH e C in modo tale che in continuo vengano misurati questi due parametri fondamentali dell'idroponica e in funzione dei dati letti dalla macchina mettiamolo così i tecnici della scuola andranno a effettuare delle operazioni che saranno aggiungere dei concimi o degli acidi o comunque tutte quelle operazioni classiche dell'idroponica quindi una gestione molto semplificata essendo all'interno di una scuola e dove è possibile automatizzata ad esempio qui per l'interno dell'acqua così da evitare insomma che l'impianto rimanga senza acqua banalmente. faccio una piccola aggiunta, qualora diciamo così dovesse essere qualche problema per cui l'acqua non dovesse essere aggiunta all'interno della cisterna perché qualcuno ha chiuso il pozzo o per altri motivi la pompa ha anche un sistema diciamo così di autoprotezione cioè c'è un secondo galleggiante, uno specifico per la pompa che quando non c'è acqua in cisterna la pompa sostanzialmente si spegne. È un'occasione rara che non dovrà succedere però è una sicurezza in più che non fa mal avere all'interno dei propri impianti. La produzione è partita a marzo e aprile insomma con l'arrivo della bella stagione tutto il raccolto ovviamente verrà sfruttato nelle cucine della scuola sia durante le lezioni sia durante i numerosi eventi che la scuola organizza, tra l'altro inizia a organizzare eventi anche in questo spazio. Naturalmente vi racconteremo tutto sul nostro canale un po' sia dell'evoluzione del sistema idroponico sia dell'evoluzione di tutto il giardino e se non vi siete iscritti al canale fatelo adesso per qualsiasi dubbio, curiosità come sempre scrivete qui sotto nei commenti e noi ci vediamo come ogni domenica qui sul canale per il prossimo video. Ciao!